Sono Angela e ho chiesto la tua domanda a Giuseppe, che sta qui con me, riguardo parlare in lingue, gridare. Giuseppe, cosa pensi? Quando uno parla in lingue, va bene anche gridare? Gloria Signore! Guarda, la tua scrittura è 1 Corinthians 14, 32. Cosa dice? Lo spirito dei profeti è sottoposto ai profeti. No, non è normale. Praticamente chi si fa prendere il suo spirito di profezia, di lingue, grida, praticamente è una messa in scena che fanno nello spirito per fare uno show, farsi vedere, farsi un grande nome. In realtà non è vero. Lo spirito santo in noi è sotto il nostro controllo. E' la potenza di Dio, ma decidiamo noi. Non è mica vero questa storia. Quindi no, no. È sottomesso a noi nel senso che possiamo controllare se profetizzare o no, parlare in lingue o no. E se glielo permettiamo, poi il Signore prende il controllo e lui profetizza. Ma è sotto il nostro controllo, assolutamente. Amen. Per cui non ti preoccupare, non fatti spaventare da questa gente. Dio ti benedica. Un abbraccio, fratellino.